Torna in doppia cifra la percentuale di positivi sui tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Sono 192 i nuovi casi di coronavirus che emergono dall'analisi di 1.766 tamponi. Pesante anche il bilancio dei deceduti, 19 i nuovi casi che portano il totale a 1.057 da inizio emergenza, ma rispetto al numero dei pazienti deceduti, 12 casi riguardano dei cessi dei giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle ASL. Aumentano di 599 unità le persone dimesse o guarite a quota 16.336. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, è di 14.882, meno 427 rispetto a ieri. Salgono i pazienti ricoverati più 8, 630 in totale, 64 più 1 rispetto a ieri sono in terapia intensiva, con 5 nuovi ricoveri, mentre altri 14.188, meno 436 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Complessivamente i casi di Covid-19 registrati in Abruzzo da inizio emergenza sono 32.275.